La storia dei migranti con un progetto che è rivolto ai giovani che cercheranno di raccontare queste storie e in cosa consisterà? Intanto il progetto è frutto di una vittoria di un bando che è appunto il bando del Ministero Migrarti è un progetto appunto molto importante che è rivolto sia appunto agli italiani ma anche ai cittadini immigrati di seconda generazione è un progetto appunto che cerca di parlare e di raccontare questo mondo e di raccontare questa realtà il lavoro è molto particolare perché partirà da tre laboratori uno teatrale, uno di danza e uno musicale che vede coinvolti tanti partner come l'archivio di Pieve di Aristico Kanterstrasse, il teatro d'Anghiari, l'Anghiari Dance Hub l'officine della cultura, l'orchestra multietnica quindi è un progetto molto importante che porterà a uno spettacolo che girerà in alcuni festival italiani e approderà poi a Palermo che è la capitale della cultura del 2018 e vedrà coinvolti artisti importanti come Fink, come il danzatore Shika e altri quindi il nostro lavoro sarà la costruzione di un percorso di senso e di spettacolo per arrivare poi a un progetto finale che appunto andrà in scena e quindi noi cercheremo di coinvolgere tutti i cittadini che potranno avere l'opportunità di partecipare a questi laboratori che sono gratuiti e finalizzati alla realizzazione di questo progetto cosa consisteranno i laboratori, come si svolgeranno? i laboratori di musica, danza e teatro si svolgeranno a partire adesso dai primi di maggio con una chiamata gratuita e ovviamente alla quale sono invitati tutti quelli che ascoltano questo appello e cercheranno di tenere insieme i linguaggi la diversità dei linguaggi, la diversità della narrazione cucita insieme alle storie di Dimmi che sono storie a volte drammatiche, a volte molto interessanti dell'Italia del terzo millennio che è fatta di nuove arrivati, di seconde e terze generazioni ed è fatta di tante storie che devono essere poi restituite in qualche modo alla popolazione attraverso un progetto e un percorso che le veda unite tutte insieme sotto lo sguardo importante di coreografi internazionali come Tommaso Monza e Mohamed Shika di chi vi parla? Simone Martini, Enrico Finch, l'Orchestra Multietnica tanti soggetti per un progetto affascinante che ha molte possibilità di sviluppo anche per il futuro